E' stata depositata poche settimane fa dal Movimento 5 Stelle la proposta di legge sui cosiddetti vitalizi d'oro. I pentastellati chiedono infatti l'adeguamento, così come già fatto dalle grandi regioni d'Italia, anche della regione Campania, le linee guida dettate nel 2014 dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali. Proprio ieri ha fatto discutere la pubblicazione della lista dei nomi che percepiscono i vitalizi d'oro. Tra questi ci sono anche due ex democristiani, Alfredo Vito, una pena patteggiata per reati contro la pubblica amministrazione, ed Armando De Rosa, attualmente imputato insieme alla moglie Flora Beneduce, quest'ultima consigliere regionale di Forza Italia, per abusivismo edilizio attore annunziata. Poi c'è anche Antonio Bassolino, che incassa l'emolumento doppio, essendo stato presidente dell'Aggiunta, ma anche consigliere effettivo. Il presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio, ed il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli, hanno sottolineato che purtroppo bisogna fare i conti con i diritti acquisiti, che non possono essere toccati e, finché le leggi nazionali non saranno cambiate, avremo difficoltà a intervenire per ridurli o eliminarli. Per il Movimento 5 Stelle Campano, però, si potrebbe partire almeno con l'adeguamento, così come in altre parti del Paese, per poi giungere ad una legge nazionale. La proposta di legge rappresenta per il Movimento 5 Stelle il minimo sindacale in tema di equità. Si tratta di andare a rivedere, nel senso di una riduzione, i vitalizi già erogati dalla Regione Campania. La Regione Campania ha abolito da questa legislatura i nuovi vitalizi, ma non ha messo mano neppure minimamente ai privilegi già maturati e già erogati. Parliamo di oltre 10 milioni di euro all'anno. Nell'innalzamento dell'età per il percepimento del vitalizio, oggi in Campania, a 60 anni, un ex consigliere, che magari ha passato solo 5 anni in Consiglio regionale, si prende uno stipendio lautissimo, appunto, come vitalizio. Con la nostra proposta, l'età si innalza a quella che la legge prevede per tutti i dipendenti pubblici che vanno in pensione. Prevediamo una riduzione a scaglioni dal 5 al 16% dei vitalizi in essere, secondo appunto dell'entità del vitalizio, ma vi assicuriamo che gli ex consiglieri certamente non moriranno di fame. E un altro elemento importante è il divieto di cumulo. Se sei stato anche ex parlamentare devi scegliere, puoi percepire un unico vitalizio. Tutte queste misure ci consentiranno di risparmiare 3 milioni e mezzo all'anno, che secondo la nostra proposta di legge andranno a finire in un fondo per le politiche sociali e le emergenze ambientali. Per non aver attuato fino ad ora questa legge, queste linee guida della conferenza dei presidenti, abbiamo già buttato 10 milioni di euro. È una responsabilità di Caldoro e di De Luca. Adesso questa maggioranza ci dica da che parte sta e che cosa intende fare. La proposta di legge va il 27 di ottobre in prima commissione permanente.